Buongiorno a quelli che sono ritornati con grande piacere, questo è il terzo anno che Michele ritorna qui, appassionato ormai del mondo di Susanna. Questa è un'associazione culturale che è nata un tre anni fa, noi cerchiamo di proporre eventi, cose in natura, per cui quest'anno abbiamo fatto di nuovo, questa è la seconda mostra di quadri che facciamo, l'altra volta c'era la Loredana Riavini, oggi c'è Sabrina Rigutti. La Loredana Riavini 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 La Loredana Riavini